Francesco, prime due giornate del Mondiale, qualche ottimo spunto, qualche problema magari in partenza, però sempre buone boline, un po' meno in poppa, giusta la sintesi? Sì, è giusta, i legati qui statevo già che fossero molto tirati, tutti puntano in alto e è difficile fare bene, io, sì, come appunto hai detto te, qualche difficoltà in partenza, però alla fine riuscivo a risolverla durante la bolina, recuperando, girando magari nella posizione di testa. Hai giurato due volte nei dieci? Due volte nei dieci, però ho avuto qualche problema di poppa che non mi ha permesso di concludere le regate davanti, è molto strano perché comunque è la prima volta che mi trovo in una situazione del genere, è come se fosse una crisi momentanea, non so bene spiegarla, però... Cioè ti passano in poppa, hai un problema di conduzione, che tipo di problema? Sì, probabilmente non riesco bene a trovare un feeling con quest'onda che è un po' incrociata rispetto alla direzione del vento, forse non sono condizioni con cui riesco a entrare bene in sintonia, quindi non lo so, non lo so. Oggi cercherò di migliorare su questo aspetto e vedremo un po'... Hai due piazzamenti tra il quindici e il venti, un dici a sette, giusto? Sì, un dici a nove. E poi invece due tra il venti e il trenta? Sì, sì. La gold è possibile ancora? Eh, dovrei fare due piazzamenti nei quindici e sperare che qualcun altro vada male. Beh, non impossibile, non che gli altri vadano male, fare due nei quindici per te, hai già fatto un dici a sette, per cui siamo lì. Devo stare, sì, sì. L'importante è cercare di fare i meno errori possibili. Ma è difficile come ti aspettavi questo tuo primo mondiale? Sì, è difficile come mi aspettavo, poi io sto gareggiando particolarmente male, quindi, sai, si sommano le due cose e non ne viene fuori... Beh, particolarmente male perché sei molto severo con te stesso, in realtà se hai girato due volte su quattro nei dieci proprio così particolarmente male, non direi... Eh, lo so, però bisogna cercare di mantenere la posizione, se non si mantiene è un lavoro sprecato. Però ora, oggi cercherò di fare il meglio e vedremo un po' cosa ne uscirà fuori. Bene, vediamo come va, parliamo dopo la regata, buon divertimento, grazie Francesco, grazie.